Hey, abbe genti, io sono Volpe77 che è felicissimo di annunciarvi che ha un nuovo wallpaper No, scherzo, in realtà sono felicissimo di annunciarvi che finalmente torno a fare video su Stai Zitto Che finalmente torno a fare video dopo tipo una settimana di... Che cavolo vuoi? No, che... Ho perso il fio del discorso, volevo solamente dirvi che... Maldizione, questo video è così in professionale Il fatto è che non è che ho preso una settimana di pause Il fatto è che mio padre, come ho già detto nel video di Dark Souls Che caricherò a breve, immagino Ho detto che mio padre aveva tipo una settimana di ferie o cose così Quindi non ho voluto fare video e mi dispiace tantissimo Ma finalmente adesso torno, posso tornare a fare video? Oh mio Dio Ehm... Un'altra cosa che volevo dirvi è che vi ringrazio Un casino per i 200 iscritti ragazzi E' tantissimo 200 iscritti Cioè, sono 200 persone che guardano un tizio che non sta cosa sto facendo Giocare e parlare con un idiota Voglio dire... Io... Io non so neanche cosa... Come ringraziarvi Non sono neanche bravo con le parole Quindi questo sarà un video un po' fatto male Però... Vi ringrazio davvero tanto Dovevo assolutamente fare un video per ringraziarvi dei 200 iscritti Perché... Non so... Ogni volta che lo dico mi... Mi dico che... Quasi non... Cioè, non ci credo E' impossibile che uno come me sia arrivato a così tanto Ehm... Non so... E... Mi sorprende E vi voglio davvero ringraziare Grazie davvero tanto Per tutto il supporto che... Che mi stai dando per i commenti positivi E anche per i commenti negativi Perché insomma, sbagliando si impara E con i commenti negativi Se fatti... Se le critiche sono... Fatti in un certo modo Possono anche aiutare quello... Il... Possono anche aiutare lo youtuber Ehm... Che possiede il video Con i commenti negativi Oh mio dio Il mio italiano Ragazzi davvero Mi spiace ma... Ehm... Mi spiace di non essere capace a fare video Infatti appunto vi sto dicendo che Non posso credere che io sia arrivato a 200 iscritti Ma ancora Vi ringrazio davvero tanto Sono davvero felice Ehm... Di questo... Raggiungimento Scusate il mio italiano Ma... BOM Ehm... Ancora Grazie per i 200 iscritti Ehm... Questo era un video update Solamente per dirvi questi... Queste due cose E... Arrivederci e al prossimo video Bye 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 Voi... Voi... Voi...